5, 4, 3, 2, 1, vai! Sinistra 4, in destra 3, subito tornante sinistro chiude! Apre 100, arraile, tornante destro! Apre sinistra 5, per destra 5, per sinistra 5, in al muro, destra 4, in tornatore sinistro gira! Apre sinistra 5, in destra 4, per il rail, destra 3 chiude, in attenzione, sinistra 3 chiude sul ponte, in destra 4, doppia! Per il muro, destra 5, per destra 5, 20, al palo sinistra 3, in tornante a destra! Apre, in destra 4, per tornante a sinistra! In destra 4, destra 3 lunga, chiude! In sinistra 5, per destra 3, in attenzione, attenzione, sinistra 3 chiude! 20, sinistra 4, per destra 5, per destra 5, 150, stai sinistro! Attenzione, apre, destra 4, attenzione, al ponte, stringe sinistra 3, attenzione, vai su compressione, destra 3, sinistra 4, stai destro sul dosso, stai sinistra, sinistra 3! Attenzione, attenzione, destra 3 chiude, in tornante a sinistra, sono più veloce di termine, in sinistra 3, in destra 4, per sinistra 3, in destra 4, molla, tornante a destra, apre, sinistra 3, in destra 3, in tornante a sinistra, dai, in molla, destra 3, lunga, sì, doppia! Ricorda, in tornante a destra, lui, apre, sinistra 3, per sinistra 3, in destra 3, per al muro, sinistra 3, chiude, in destra 3, chiude, chiude! 50, al ponte, stringe sinistra 3, in attenzione, destra 3, chiude, per tornante a sinistra! 50, bravi, 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 sei un po' più veloce! Apre, destra 4, in sinistra 4, per al cartello destra 4, in sinistra 3, molla, qui, tornante a destra, vai, vai! apre sinistra 4 per destra 4 vai in EPS